All'Aquila ormai è mobilitazione per la soppressione delle corse tua. L'assessore alla mobilità e trasporti del comune Carla Mannetti ha convocato per lunedì 10 febbraio alle 17.30 negli uffici della sede di Via Vezzano un incontro con i pendolari che si offriscono quotidianamente delle corse tua all'Aquila Roma e viceversa. Lo scopo dell'incontro è fare il punto della situazione a giudizio dell'assessore gravissima a seguito delle sconcertanti decisioni prese dalla società dei trasporti della regione. Vengono cancellate cinque corse nei corsi feriali dal capoluogo di Abruzzo alla capitale, ha spiegato la Mannetti, e quattro corse dell'itinerario inverso. Per quanto riguarda i festivi sono state soppresse tre corse dall'Aquila a Roma e due corse da Roma all'Aquila, una compressione del servizio assolutamente inaccettabile di cui pagheranno serie conseguenze non solo i pendolari tra le due città ma anche tutti coloro che utilizzano il servizio per raggiungere altre destinazioni o provenendo da altre città. Mannetti ha fornito alcuni esempi. Con i nuovi orari in vigore dal 10 febbraio, chi perde l'autobus feriale delle 19.45 da Roma verso l'Aquila può prenderlo solo alle 22, essendo state cancellate le corse intermedie. Come se non bastasse, è stata soppressa la corsa delle 23 da Roma all'Aquila, sia nei giorni feriali che nei festivi, che era un'ottima corsa di scambio con gli arrivi alla stazione Tiburtina dei Treni. Tua ha messo in atto un'operazione meramente ragioneristica, ha detto la Mannetti, in barba ai fondamenti che contraddistinguono il trasporto pubblico, servizio essenziale per antonomasia. E non ha tenuto in alcun conto sia le esigenze di centinaia di pendolari, sia il fatto che la Tiburtina rappresenta un hub intermodale di primaria importanza per l'Aquila, per quanto attiene l'interconnessione dei servizi su rotaia e gomma. Oltre allo schiaffo al capoluogo di regione, che come è noto oggi è una vera e propria città sparsa in territorio vastissimo, i disagi si moltiplicheranno per le aree interne circostanti, che saranno ancora più penalizzate da questa assurda riduzione delle corse. Tutto ciò, ha detto la Mannetti, sarà dibattuto nel corso dell'incontro di lunedì con i pendolari, la cui protesta nei confronti della decisione della società di trasporto va sostenuta. Non si può ammortificare il ruolo dell'Aquila, che per la sua difficile posizione territoriale ha nei collegamenti efficienti e frequenti, soprattutto verso Roma, l'arma principale per tenersi in contatto con il resto d'Italia.